L'inizio del 2013, come inizia il 2013 per un'azienda come la vostra? Il 2013 è iniziato da subito all'insegna delle regole e dell'etica che vogliamo seguire conformemente al nostro DNA che ci contraddistingue da sempre. Abbiamo da poco aderito a un consorzio di smaltimento e riciclo dei rifiuti nazionale e questo è un buon inizio conformemente a quanto richiesto dal GSE. Lo eravamo già in passato, siamo stati la prima società cinese e delle rinnovabili ad aderire a un consorzio europeo di smaltimento e riciclo dei moduli esausti a fine vita. Ci siamo uniformati ai nuovi regolamenti emanati dal GSE e abbiamo aderito ad un consorzio storico nazionale che riteniamo possa avere tutti i requisiti per soddisfare tutti i punti richiesti dal GSE e le garanzie richieste dal GSE per questo tema così sensibile a cui noi teniamo parecchio. Penso che questa sia anche una pronta risposta che non abbia bisogno di commenti a tutti coloro che invece pensano che le aziende cinesi non siano assolutamente in regola con quanto invece sia stabilito dalle normative nazionali anzi invece paventando la piena conformità di imprese che corrispondono a questa o quell'altra bandiera e questo ci deve insegnare appunto che il fotovoltaico non ha alcuna bandiera, non è proprietà e sottolegite di alcuna bandiera ma è un settore che è praticamente ormai globalizzato e che in Italia se sostenuto adeguatamente potrà portare tutti quei frutti che sono stati raggiunti fino ad oggi. Ecco, un settore globalizzato ma l'Italia resta comunque un mercato di grande riferimento penso per Ingrid. Come vedete il 2013 che strategia pensate di portare avanti? La strategia che vogliamo attuare per il 2013 che abbiamo iniziato a metà del 2012 è proprio quella di continuare a dialogare sempre di più con gli installatori e quindi di seguirli in modo capillare territorialmente, di essere sempre più vicini a loro trasferendo tutto il nostro know-how e i contenuti tecnici che possono essere utili a coloro che poi andranno a realizzare fisicamente e praticamente gli impianti fotovoltaici sui tetti degli utenti finali. Quindi continueremo con i nostri programmi di formazione, il nostro scouting su tutto il territorio nazionale di installatori da dover certificare conformemente al programma Ingrid4U che è già partito con successo nel 2012, continueremo con nuove edizioni lungo tutto lo stivale che saranno ufficializzati nelle prossime settimane e a questo sarà abbinato un ulteriore programma formativo un po' più approfondito e qui vi do un'anteprima, ci saranno più di una giornata formativa per installatori già certificati e non che vorranno unirsi a questi nuovi seminari che metteremo in campo, il nome non ve lo posso ancora svelare ma sarà appunto l'Accademia di Ingli che darà poi dei titoli abilitativi per poter qualificare ufficialmente e in conformità con i nuovi regolamenti attesi in campo per gli installatori che andranno poi a realizzare impianti fotovoltaici. Quindi formazione a tutto campo, puntiamo molto sugli installatori, ovviamente non ci dimenticheremo degli altri canali di distribuzione quindi conteneremo ad avere la nostra rete ristretta ma sicuramente di alto livello in Italia di distributori quindi rete distributiva e nostri partner chiave lungo tutto lo stivale, installatori formati altamente qualificati saranno la nostra ricetta vincente per il 2013. Mi sembra quindi che Ingli si sta specializzando sulla filiera della qualità, diventerà come un marchio che seguirà dal prodotto iniziale fino all'installazione finale una riconoscibilità. In questo avete anche stipulato un'assicurazione di garanzia superiore sui pannelli mi sembra. Assolutamente sì, nel mese di dicembre abbiamo ufficializzato un accordo che abbiamo stretto con la Munich Re in sostanza è una ulteriore assicurazione che potrà essere offerta da Munich Re in conformità con l'accordo che abbiamo siglato con loro per poter andare a sopperire eventuali perdite di potenza che si possano verificare sugli impianti installati da ottobre 2012 fino a fine 2013. Quindi tutti i proprietari di impianti che hanno utilizzato moduli policristallini in glisolar potranno beneficiare dietro richiesta, ovviamente è un servizio aggiuntivo e quindi un'ulteriore garanzia oltre a quella che noi già forniamo sui nostri prodotti, sull'efficienza e quindi sulla potenza in uscita dei moduli fotovoltaici e quindi dell'impianto che utilizza i nostri moduli. Nello specifico che parametri di assicurazione garantite? Cioè quanto garantite i moduli? Noi garantiamo che la potenza in uscita dei nostri moduli debba essere non inferiore al 91,2% entro i primi dieci anni e non inferiore all'80,7% entro i 25 anni di operatività dei moduli fotovoltaici. Quindi performance al di sopra della media che devono essere garantite e quest'ulteriore assicurazione può far dormire i sogni tranquilli ai proprietari di impianti che utilizzano i nostri moduli. Da questa strategia verso gli installatori e dal perseguire comunque sia una strategia di qualità del prodotto che margini vi aspettate per il 2013? Che tipo di crescita? Noi ci aspettiamo in modo prudenziale una crescita costante. Ad oggi possiamo dire di aver conquistato in Italia una buona fetta di mercato che si attesta intorno al 5-6% del potenziale. Teniamo conto che questi sono dati da prendere con le pinze perché il mercato italiano ha avuto tante evoluzioni in virtù proprio dei diversi conti energia che si sono susseguiti nell'arco di pochissimo tempo. Con la stabilizzazione del mercato vedremo cosa succederà quest'anno alla fine del budget che sostiene l'attuale quinto conto energia, vedremo se ci saranno ulteriori spostamenti in avanti e proroghe, cosa che è già avvenuta per gli impianti da realizzare sulle pubbliche amministrazioni. Però noi ci aspettiamo un anno positivo, potenzialmente c'è chi dice che il mercato italiano possa avere una potenzialità che si agire intorno al gigawatt e mezzo 2 per il prossimo 2013 e anche per il 2014 annuo. In base a questi dati noi ci aspettiamo di avvicinarci e quindi di confermare la nostra quota di mercato e ovviamente la nostra ambizione è quella anche di raddoppiarla, avvicinandoci al famigerato 10% che noi praticamente deteniamo ormai globalmente. Quindi avete fiducia nel mercato italiano, ma state anche sviluppando delle politiche relative a storage per esempio? Sullo storage ci sono delle ricerche che abbiamo fatto nel nostro centro di ricerca in Cina, non posso ovviamente rilevare alcun dettaglio tecnico, stiamo seguendo con molta attenzione le varie tecnologie che ci sono, in questo momento non precludiamo nulla, però sicuramente non appena riusciremo a trovare la giusta combinazione in termini tecnici di impatto ambientale, di resa dello storage e quindi il giusto componente che può fare al caso nostro è sicuramente un ulteriore upgrade a quella che è la nostra attuale offerta. Un'altra possibile evoluzione può essere il fotovoltaico integrato all'interno delle strutture residenziali, si parla tantissimo di efficienza energetica, si sta parlando di finestre fotovoltaiche, insomma il fotovoltaico un po' dappertutto, su questo state lavorando? Ma i cosiddetti impianti BIPV, quindi Building Integrated Photovoltaic Systems, è un qualcosa che noi abbiamo già percorso tempo addietro, ne è un esempio eclatante l'hotel che abbiamo realizzato nella stessa città dove ci sono i nostri quartieri generali a Bauding che è realizzato un hotel 5 stelle lusso unico in Asia realizzato con un mega e mezzo circa di potenza installata su facciata proprio con moduli BIPV. Quindi è una tecnologia che abbiamo già percorso, sicuramente in Italia questo tipo di applicazioni non ce ne sono state tantissime, i sistemi totalmente integrati sono stati fatti per lo più con moduli fotovoltaici di tipo tradizionale con delle particolari innovazioni sui sistemi di montaggio e quindi magari moduli frameless senza cornice ma incastonati con dei sistemi particolari tali appunto da rendere il sistema integrato sullo stesso livello della falda dell'ipotetico tetto dove viene alloggiato il sistema. Però senza andare troppo nei tecnicismi il BIPV resta un qualcosa su cui noi crediamo e qualora ci fosse una forte richiesa anche sul mercato italiano beh questa è una tecnologia che già deteniamo e saremo pronti a inserire anche questo tipo di prodotto nella nostra offerta. Abbiamo parlato di un 2013 all'insegna della garanzia del prodotto finale, la garanzia dell'installatore. A livello invece di produzione? A livello di produzione noi già da anni deteniamo diverse certificazioni e riconoscimenti in campo ambientale giusto per annoverarne alcuni abbiamo ottenuto la SA8000, la Social Accountability Certification che appunto certifica che nei nostri stabilimenti sono riconosciuti appieno i diritti umani dei lavoratori. Poi abbiamo ottenuto già da tempo e ancora prima che venisse richiesta dai vari sistemi di incentivazione come quello italiano, la ISO 14001 che stabilisce appunto che nei nostri stabilimenti sono utilizzati macchinari e linee di produzione environmental friendly e quindi il ciclo di produzione è sostanzialmente chiuso e non ci sono emissioni nell'area, nell'acqua, nel terreno dannose per l'ambiente. Poi abbiamo ottenuto anche la ISO 8000 che riguarda appunto le condizioni di lavoro degli operatori, dei lavoratori all'interno dei nostri stabilimenti che sono pari a quelle dei lavoratori occidentali e quindi di condizioni standard di lavoro. Quindi per dire tutto ciò che succede all'interno dei nostri stabilimenti durante i cicli di produzione e all'interno di tutte le attività operative di Ingli sono assolutamente in linea con quelli che sono gli standard mondiali sotto il punto di vista etico e quindi lavorativo. Penso che per un manager italiano essere in un ruolo come il suo, su un mercato come il nostro con le spalle un'azienda di questo tipo sia una bella soddisfazione. Una doppia soddisfazione anche perché posso dire di aver passato diversi step anche all'interno di aziende italiane, panamericane e da ultimo con orgoglio in questa multinazionale che ha base in Cina ma che ha veramente un respiro globale. Anche e soprattutto perché vista la mia giovane età ho avuto l'opportunità di vedere, conoscere e toccare con mano un mondo veramente entusiasmante. Grazie.